Non solo il 25 novembre il programma organizzato per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne si estende quest'anno lungo tutto il mese di novembre nell'agronocerino sarnese con incontri mirati a fare il punto e sperimentare sui giovani in particolare l'ascolto e il confronto. Saranno proprio loro i protagonisti, le scuole del territorio. Il 21 novembre infatti a Sarno nei saloni del teatro dell'Ise è un incontro di riflessione profonda a partire dalle 10 a causa dei tanti femminicidi, spiega la referente Gabriella Ferraioli. A volte c'è il rischio che cali il silenzio sulla violenza contro le donne perché pensiamo che sia stato già detto tutto. Con questi incontri si vuole ribadire l'importanza di continuare a parlare di questo orribile fenomeno. Abbiamo scelto anche di affrontare il tema della violenza come un punto di partenza per nascere. L'evento dal titolo I miei sogni, a prescindere dagli stereotipi, la parità che contrasta la violenza, promosso dall'ambito territoriale S1, dai comuni di Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e da Prodos, società cooperativa sociale, ente gestore di vita di Giada, per l'appunto pone un focus su quanto è importante da anni, offrire sostegno alle vittime. Qualche anno fa, continua la Ferraioli, siamo partiti con il CAV che potesse abbracciare tutti e quattro i comuni dell'Agro, un centro che oggi lavora tutti i giorni offrendo sostegno psicologico, un assistente sociale, un avvocato e le donne si affidano trovando anche sostegno alla genitorialità perché spesso una donna vittima di violenza è concentrata sulla violenza subita e non riesce a gestire la quotidiana responsabilità genitoriale, non per incapacità, ma perché ripartire da sole non è facile. Spesso una donna con i propri bambini chiede aiuto e un tetto. Due anni fa nasce il centro anche per fare di più e offrire in alcuni casi, ove è necessario, la residenza e uscire così dal contesto familiare che potrebbe rappresentare un pericolo ulteriore. O anche per le mamme straniere che denunciano e sono sole, lontane dai familiari, quindi meglio collocare donne in una casa d'accoglienza.